C'è giunta una segnalazione che riguarda la quantità di sale gettata sui ponti di Chioggia per mettere i gradini in sicurezza, impedire che gelino e che chi ci cammina possa scivolare. C'è chi dice meglio sabundare quam deficere, ma c'è anche chi afferma che il sale ha un potere corrosivo e che soprattutto sulle strutture antiche e preziose si dovrebbe andare cauti proprio per non rischiare di rovinare i manufatti d'epoca. Fermo restando che tra un gradino rovinato dal sale e una gamba rotta perché il sale mancava è sempre meglio pensare alla gamba. In questi giorni di freddo intenso non si pone il dubbio, si dà per certo che il sale sparso sia un beneficio, infatti la paura è che di notte faccia ghiaccio, ma il dubbio viene per quando è sparso con temperature minime anche di 7-8 gradi, alle quali che faccia ghiaccio è un po' improbabile. Lo stesso dicasi quando il sale viene sparso sulle strade, troppa abbondanza, quando le temperature non sono così basse non è detto che faccia bene. Sul web abbiamo trovato un interessante articolo sul sito intech.com in cui si dà risalto agli impatti negativi dell'esagerato spargimento di sale, il quale ha un impatto sull'ambiente non trascurabile, dall'aumentare la concentrazione di sale nelle acque dolci superficiali, dall'effetto diserbante sulla microfauna e microflora e col rischio con le piogge di inquinare la falda. La mescola degli pneumatici viene intaccata dal sale per sgelare le strade, rilasciando metalli pesanti per reazione chimica. Come riporta la pagina web, il responsabile di France Nature Environment ha affermato la sicurezza stradale fondamentale, ma non può essere un pretesto per una dispersione incontrollata di sostanze chimiche tossiche nell'ambiente. In Canada hanno limitato l'uso del sale nelle aree di pregio ambientale, nelle vicinanze dei corsi d'acqua e nella stessa vicina Venezia viene rilasciato con parsimonia. Il potere corrosivo del sale rovina auto, aiutando la formazione di ruggine sulle carrozzerie e asfalto, può infatti danneggiare le pavimentazioni e accelerare la formazione di buche. Può arrivare a danneggiare anche le armature del cemento armato. Esistono certamente altre soluzioni più costose, ma meno inquinanti. Buttarne troppo rappresenta quindi un costo non basso per la comunità. Ok al sale, quando le temperature si avvicinano allo zero e le previsioni del tempo dovrebbero servire a qualcosa, ma con molta parsimonia quando ne sono ben lontane e di ghiaccio non c'è sentore. Grazie a tutti.